E la bella Morena 1980 ti fa tutto, 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 tutto. E io vi ho già detto che Twitter si è democratizzato e Twitter oggi accoglie le donne generose. Morena 1980 è tanto bella, quindi generosa. Si fa tutte le cose tramite la webcam. Io nel riassunto di questo video vi lascio il link che vi porta sul profilo Twitter di Morena 1980. Guardate quanto è generosa Morena, quante belle cose che vi fa. Sembra che non voglia neanche un quattrino. Se voi vi chiedete una cosa, voi, lei, Morena 1980, tramite la webcam, la fa quella cosa in maniera virtuale. Poi, poi, non so se possa farle le cose anche in maniera reale. Beh, questo me lo direte voi, cari amici, capito? Perché questa qua, la mia, è una web tv on demand. Quindi io vi porto la notizia, voi approfonditela e poi fatemi sapere se Morena 1980 le belle cose le fa anche realmente. Ok, cari amici, a tutti e tanti cari saluti da Serafino Massoni.